Usare la mascherina non è facile come sembra. Ricordatevi, la parte centrale non si tocca mai. L'importante è coprire bene la bocca, il naso e il mento. La togli sempre toccando solo l'elastico. Tu vai al supermercato, faccio un esempio, la devi portare fissa. Ricordatevi di usarla quando siete all'aperto, non potete mantenere le distanze. Afferreto? Chiero? Io ci ho messo la faccia e il cuore, adesso la mascherina mettiamocela tutti. Attenzione! Anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.